La sicurezza, la pace, sono dei concetti che possono sembrare astratti eppure si possono costruire. In che modo si costruiscono la pace e la sicurezza? Ci sono degli esempi concreti che arrivano dal territorio. Ne parliamo nel numero 233, anno sesto, di A Porte Aperte. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Per tre anni è stato capo di gabinetto del Questore di Roma, curando la pianificazione e gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica su tutto il territorio di Roma Capitale. In quel periodo ha coordinato e costruito la sicurezza su ogni tipo di manifestazione istituzionale, politica, sindacale, religiosa, sportiva. Per un breve periodo ha diretto anche il compartimento di polizia ferroviaria competente sulle regioni Marche, Umbria e Abruzzo. Dal 1 agosto 2014 è in servizio a Frosinone. Benvenuto al Questore, Filippo Santarelli. Buonasera, benvenuto. Ha portato nella sua città le pietre che arrivano da oltre 100 paesi del mondo. Ha impiegato 4 anni per radunarle e poi farle riunire in un monumento, un monumento dedicato alla pace e al dialogo tra i popoli. Un monumento inaugurato in queste ore alla presenza di centinaia tra ambasciatori e consoli. Benvenuto al Sindaco di Veroli, Simone Cretaro. Buonasera. Anche a questo numero di apporte aperte potete dire la vostra, potete porre domande ai nostri ospiti, commentare quello che dicono con un sms inviato al 331 12 456 25. 331 12 456 25 per i vostri sms. Nessun costo aggiuntivo a quello del normalissimo messaggio. Cominciamo con ordine. Dottor Santarelli, sicurezza del territorio. Intanto la sicurezza è un concetto che si può costruire. Abbiamo visto per tre anni a Roma lei ha costruito la sicurezza su ogni tipo di manifestazione che coinvolgesse migliaia e migliaia di persone. Come si costruisce la sicurezza? Bene, la sicurezza è un bene comune, è un bene di tutti che va costruito tutti insieme, ognuno secondo le proprie funzioni e le proprie prerogative. La sicurezza è un bene verso il quale tutti i cittadini sono sensibili ed è un impegno per noi delle forze dell'ordine costante e quotidiano. La sicurezza va costruita con professionalità, con dedizione e va costruita però tenendo presente che si può fare facendolo tutti insieme. Gli enti pubblici, privati, associazione, gli stessi cittadini, tutti insieme per la sicurezza di tutti. Di fatto questo è un territorio molto particolare perché per una persona che viene da Roma si dice che per chi sta a Roma il mondo finisca all'altezza di Cinecittà. In realtà poi superata Cinecittà c'è un mondo come quello nel quale ci troviamo in questo momento che è molto particolare. A metà strada tra Roma e Napoli, due criminalità diverse collegate tra l'altro da una rete autostradale fantastica, velocissima, efficientissima, in mezzo ci siamo noi. Di fatto questo è un territorio che per un certo periodo della sua storia ha visto la presenza di infiltrazioni, di attività di riciclaggio, di interessi sporchi di ogni genere. Sotto questo aspetto quanto siamo sicuri, quanta sicurezza c'è? Sì, l'attenzione delle forze dell'ordine è massima per quanto riguarda il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Si tratta di infiltrazioni che si realizzano sfruttando una situazione economica per certi aspetti precaria e sono infiltrazioni che si ricollegano alla esigenza delle varie organizzazioni criminali di investire i profitti illecitamente acquisiti. Il settore economico rappresenta un settore molto ambito dalle varie associazioni criminali a fronte della cui attività noi dobbiamo prestare la massima attenzione. Diciamo sempre infatti che la guardia delle forze dell'ordine è sempre molto alta. Ma anche in questo terreno ribadisco l'esigenza di avere la collaborazione di tutti, non solo fra le forze dell'ordine in sintonia con la magistratura, ma anche dei vari enti, regione, provincia, comuni, ma anche le associazioni, le associazioni di categoria. Ogni volta che noi abbiamo avuto un incontro con Industria, con Federlazio, con l'Associazione Commercianti, abbiamo sempre ribadito il concetto che abbiamo bisogno della loro collaborazione. Le loro segnalazioni possono rappresentare per noi un impulso e un impegno per combattere il fenomeno delle infiltrazioni. Ed è un fenomeno che noi combattiamo non solo attraverso la polizia giudiziaria, quindi la repressione, ma anche attraverso un'adeguata attività di prevenzione che ci vede partecipi nell'attività di applicazione delle misure di prevenzione, sia a carattere personale che patrimoniale, su cui anche la magistratura insiste molto. Di fatto però la domanda è lecita su questo territorio, quanto interesse c'è dei clan? E in che modo si sostanzia questo interesse dei clan? Perché molti pensano che non si spara per strada, quindi possiamo stare tranquilli. Di fatto però ci sono tante forme di interesse criminale sul territorio da parte della malavita organizzata. Sì, infatti, quindi non ci sono, non si segnalano situazioni gravi di violenza. Questo però non significa che la criminalità organizzata non operi nel terreno economico. Noi abbiamo segnali che ci vengono confermati anche ad esempio dalla relazione semestrale che fa la direzione investigativa antimafia, segnali di tentativi di infiltrazione nel settore della ristorazione, nel settore dell'idilizia e anche quello relativo al ciclo dei rifiuti. Sono segnali tangibili, frutto a volte anche di attività di polizia giudiziaria o di esiti processuali a fronte dei quali noi dobbiamo stare, essere particolarmente attenti e quando dico noi dico polizia di Stato, ma anche arma dei carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale dello Stato per quanto riguarda l'aspetto della tutela ambientale. Quindi le infiltrazioni ci sono, non sono particolarmente diffuse ma ci sono. Dobbiamo anche prestare attenzione, come suggerì un magistrato di Napoli in occasione di un convegno a Cassino, dobbiamo stare anche molto attenti verso professionisti che nel territorio della provincia di Frosinone prestano il proprio contributo per favorire queste attività di infiltrazione anche attraverso facili guadagni. Ecco, noi dobbiamo lottare contro tutto questo ma sempre tutti insieme. Lancio una provocazione che prendo da un intervento fatto da un sindaco di questo territorio, il sindaco del comune di Ceprano, che per mestiere è un poliziotto. Non mi avventuro, cito testualmente, neanche a parlare dei rappresentanti istituzionali, questori, prefetti, compagnia cantante, che in passato, pure davanti alla verità oggettiva di una presenza massiccia di interessi mafiosi, hanno sempre sostenuto che la provincia di Frosinone fosse un oasi, un atteggiamento vergognoso. Il silenzio favorisce la mafia che ha compromesso nel tempo la possibilità di ostacolare il consolidamento degli interessi criminali in cioceria. È il silenzio il primo nemico? Il primo nemico è non tanto il silenzio ma a volte il voltarsi dall'altra parte. Noi invece dobbiamo parlare di questo pericolo, dobbiamo parlare di quello che fanno le forze dell'ordine, ma dobbiamo anche cambiare un po' la mentalità delle persone. È un processo culturale molto, molto importante, a fronte del quale noi spesso siamo impegnati in tutto il territorio provinciale a promuovere i concetti di educazione alla legalità, del rispetto, perché vorremmo far comprendere che i fenomeni criminali possono essere posti sotto controllo non solo attraverso l'opera delle forze dell'ordine, ma anche attraverso un cambiamento culturale in cui tutti, anche i singoli cittadini, possono creare una situazione virtuosa che faccia allontanare i possibili soggetti interessati a questo territorio per attività criminali. Sindaco Cretaro, come si costruisce la pace? Lei ha dato davvero un segnale, ha lanciato questo segnale simbolico molto, molto forte. Sì, una iniziativa che ha avuto un impatto forte non solo per il nostro comune, ma credo per l'intero territorio, data anche la presenza del presidente Zingaretti che ha avuto modo di sottolineare proprio questo messaggio forte che parte da Veroli. L'idea nasce da due artisti locali, Pietro Spagnoli e Ornella Ricca, che qualche anno fa ci sottoposero questa idea che è stata poi recepita dalla precedente amministrazione e oggi, a seguito di un lavoro durato oltre quattro anni, siamo riusciti a consegnare alla città, ma non solo. E come ho avuto modo di dire, la pace non è un sinonimo di assenza di conflitto. La pace non può essere rappresentata da questo aspetto, ma è un'operazione che va costruita giorno per giorno. va costruita nelle nostre città, in quello che facciamo quotidianamente. Il questore faceva lo stesso esempio per quello che è la legalità e la pace ha bisogno di un processo culturale che si forma nel tempo, che forma le coscienze in maniera tale da poter arrivare a avere quei risultati che ognuno di noi auspica. Di fatto, oltre la pace, c'è questo concetto di sicurezza che ci ha spiegato il questore e ha detto già in due passaggi, guardate che si costruisce insieme. Il vero problema è se ci si volta dall'altra parte. Di fatto i sindaci hanno un ruolo importantissimo, perché quando il questore parla di facilitatori, di persone che vengono perché sono interessate al territorio, che propongono magari un investimento che può sembrare interessante per un comune e di fatto poi dietro può esserci ben altro. Di fatto quanto si respira questo rischio, questa attenzione, questo interesse al reinvestimento? Cioè quanto bisogna essere attenti? Lei lo percepisce, la percepisce questa necessità? Ma assolutamente sì, io credo che al di là della percezione per una situazione concreta, credo che deve essere proprio insito nell'atteggiamento e nella cultura dell'amministratore, perché poi dietro determinate operazioni, dietro determinati investimenti, come diceva il direttore, c'è la necessità di verificare attentamente quello che è poi l'obiettivo concreto che queste persone vengono a sottoporre alle amministrazioni. C'è la necessità oggi di fare attenzione e coniugare questo aspetto con quella che è una carenza di investimenti, perché una delle motivazioni, come dicevo a quest'ora, è sicuramente approfittare di quella che è una situazione economica, finanziaria che non dà opportunità di crescita, di investimenti e delle volte è difficile anche avanzare questo tipo di problematiche rispetto a opportunità di sviluppo, di investimento, di lavoro. Un momento perché non me la raccontate giusta. Allora, Sindaco, lei ha fatto un'iniziativa interessantissima l'estate scorsa che ha trasformato Veroli in un salotto della cultura. Più o meno ogni settimana, dieci giorni, portava un autore di un libro interessantissimo e lo faceva parlare con la città. Tra le persone che lei ha invitato c'è Lirio Abate, giornalista di inchiesta dell'Espresso, che è l'uomo che per primo anni fa ha parlato del mondo di sopra e del mondo di sotto, in pratica tutta la storia di mafia capitale. Lirio Abate, venendo a Veroli, raccontando il suo libro, raccontando la sua inchiesta giornalistica dalla quale poi è nata l'inchiesta giudiziaria, ha detto guardate che Camorra mafia è anche accettare di dover pagare dieci euro per riavere indietro la bicicletta che è stata rubata. Si finisce in un meccanismo quasi neanche senza accorgersene. C'è questo rischio per il nostro territorio? Sicuramente il rischio è presente, però credo che chi ha compiti di amministrare, di gestire la cosa pubblica deve avere ovviamente l'attenzione a mettere in campo quelle iniziative che assolutamente non determinano questo tipo di aspetto culturale, perché poi è quello del fenomeno culturale, come dicevo prima, lavorare a quella idea per cui quello che spetta a un cittadino non è una concessione che la pubblica amministrazione fa, non è un qualcosa che viene dato per l'amicizia, per quello che è una sorta di rapporto di carattere personale. In questo senso la pace è quello che può dare sotto questo aspetto, è proprio di dare la certezza di quello che spetta, dare la certezza di alcuni diritti, dare la certezza di dare risposte anche a molti bisogni che oggi la gente ha, perché la difficoltà che oggi si vive quotidianamente può determinare anche aspetti che vadano a confliggere un po' con le cose che ci siamo detti. Dottor Santarelli, resto al racconto che fece a Veroli Lirio Abate, raccontando Mafia Capitale diceva che una delle cose che vengono fuori con questa inchiesta è che a un certo punto nei tempi di oggi non si corrompono più i sindaci, non si corrompe più la politica. Di fatto a Roma, raccontava questo giornalista, chi prendeva le mazzette più grosse erano i funzionari, ai politici si davano poche migliaia di euro. Davvero il potere oggi non è più in mano alla politica ma in mano ai funzionari? Nel meccanismo corruttivo entrano in gioco più fattori e fra questi fattori evidentemente, queste sono le risultanze investigative, rientrano anche i funzionari pubblici che nel ciclo diciamo così produttivo del meccanismo corruttivo hanno una rilevanza tale per cui si rendono come dire protagonisti di questo fenomeno. Di fatto faccio l'esempio pratico, il cittadino va in un comune, chiede un servizio, ha detto il sindaco bisogna fare in modo che una cosa che è dovuta venga data senza nessun ulteriore indugio, in realtà si trova, poi quello che dice guarda ci vuole tempo però se allunghi qualche cosa la soluzione la troviamo, già questo è cadere in quel meccanismo. Il cittadino, visto che lei ci diceva la sicurezza si costruisce insieme, come deve reagire? Perché se parla la pratica si blocca definitivamente, se cede però è finito in questo meccanismo, come bisogna reagire? Come dicevo prima anche in questo campo è una questione culturale, il cittadino ha dei pieni diritti che sono riconosciuti dall'ordinamento giuridico, laddove abbia la sensazione che il meccanismo sia artatamente rallentato, ha la possibilità di segnalare queste situazioni, almeno per quanto riguarda la mia istituzione, noi abbiamo un ufficio relazioni con il pubblico, nell'ambito del quale c'è la possibilità di segnalare situazioni di pericolo che riguardano noi, ma anche che riguardano altri enti. Quindi non faccio una denuncia vera e propria, ma segnalo, guardate, c'è questa situazione che potrebbe essere sospetta, è così? Esatto, la denuncia è un atto che si pone in essere quando c'è una situazione di reato o presunta tale. In questo caso una semplice difficoltà posta in ambito burocratico può costituire un indizio rivelatore e può essere segnalato anche attraverso esposti o comunque attraverso comunicazioni fatte per email, non solo telefoniche, non solo personali presso gli uffici competenti. Quindi capiamo una cosa, perché molte volte il cittadino dice ma no, non ci vado per niente in questura perché poi se non è vero niente passa un guaio. In realtà una cosa è la denuncia, cioè io espongo un fatto in maniera circostanziatico, il sindaco ha fatto questo. Cosa ben diversa è andare in un ufficio e dire guardate succede questa cosa, ho l'impressione che non sia proprio l'impida, quindi è possibile fare questo. Sì, sì, confermo, è possibile farlo. Questura di Frosinone, ufficio in relazione con il pubblico, giusto? Sì, signor. E questo anche nei commissariati. Sì, anche nei commissariati. È un po' il principio della cosiddetta polizia di prossimità, cioè per il fatto di essere prossimi e vicini al cittadino, la nostra amministrazione si è creata tutta una serie di sistemi, fra cui anche quello dell'ufficio relazioni con il pubblico, quello della denuncia a domicilio per le persone anziane o disabili, cioè tutta una serie di meccanismi che consentono una maggiore vicinanza da parte dei cittadini verso l'istituzione. E quindi questo è uno di quei settori. Proprio per fare un esempio, siccome siamo garantisti, diciamo, poi dovrà essere la magistratura ad accertare effettivamente quanto degli indizi e delle fonti di prova raccolte dagli organi di polizia giudiziaria in effetti siano fondati o meno. E di fatto una delle più grosse indagini che avete concluso ultimamente, che ha coinvolto più di 100 persone, è questa inchiesta sulle patenti che sarebbero state date dietro pagamento di somme o addirittura di beni o utilità. Si diceva un tempo, di fatto qualche signora che avrebbe concesso le proprie grazie. Ora, un'inchiesta molto, molto complessa. Come si realizza un lavoro così difficile, così articolato in una realtà come la provincia di Frosinone, dove non mi sembra che abbiate a disposizione tutto il personale che invece c'è a Roma? Certo, questa operazione denominata Pay to Drive è un'operazione portata a termine dalla sezione anticorruzione della squadra mobile. Il capo della polizia, prefetto Panza, già da oltre un anno ha deciso di rafforzare le sezioni delle squadre mobile che si occupano dell'anticorruzione. Lo abbiamo fatto anche a Frosinone, c'è del personale che si dedica a questo tipo di attività. Tutto è partito oltre un anno fa da una segnalazione di un cittadino che in occasione di un esame per la patente ha notato delle discrasie, delle situazioni piuttosto sospette. Da lì è iniziata l'indagine. Torniamo all'esempio di prima, cioè questo cittadino non è venuto a dirvi guardate che tizio fa queste cose, è venuto a dirvi ho notato che forse c'è qualcosa che non va. Certo. Quindi da qui partono gli accertamenti, prego. Partono gli accertamenti, gli approfondimenti, laddove iniziamo a vedere che sussistono elementi di prova abbastanza importanti, si interviene verso la magistratura, come abbiamo fatto in questo caso, per chiedere forme di investigazione come le intercettazioni sia ambientali che telefoniche che sono andate avanti per diversi mesi e che hanno consentito di acquisire elementi di prova, a nostro avviso piuttosto evidenti, di responsabilità nei confronti di 20 persone a carico dei quali sono stati emessi provvedimenti giudiziari importanti e 135 sono le persone indagate che dovranno rispondere a vario titolo di fronte all'autorità giudiziaria di reato. Quanto è complesso un lavoro del genere, cioè quanto impegno occorre? Un tempo si diceva che le indagini si facessero consumando la suola delle scarpe, andando in giro. Di fatto oggi ci sono tecnologie differenti che magari possono aiutare dall'una e dall'altra parte, ma quanto è complessa un'indagine che coinvolge più di 100 persone? Sì, è stata un'indagine molto impegnativa che ha coinvolto gran parte del personale della squadra mobile, quindi a volte non solo la sezione criminalità organizzata, ma anche altre sezioni hanno fornito uomini per realizzare i servizi investigativi. Gli strumenti tecnici, parlavo di intercettazioni ambientali e di intercettazioni telefoniche, ci aiutano moltissimo, ma comunque la suola delle scarpe continua ad essere consumata, perché tante volte abbiamo dovuto fare degli inseguimenti o degli appostamenti che hanno determinato un'uscita del personale anche in ore antilucane. Sindaco, la legalità e la sicurezza possono essere anche uno strumento di valorizzazione del territorio. L'esempio di oggi, insomma, di quel monumento è un esempio lampante, perché di fatto lei si è portato, i rappresentanti di mezzo mondo, anzi di tutto il mondo, se li è portati a Veroli dove finalmente ha potuto mettere in evidenza l'Abbazia di Casamari, la Scala Santa, tutta una serie di bellezze del territorio che altrimenti sarebbero rimaste nascoste. Quindi la pace e la legalità, cioè il fatto di poter venire a Veroli che è una città da un punto di vista della criminalità tranquilla, cosa ben diversa è andare in una città con un alto tasso di criminalità, non posso andare in giro la sera perché magari mi scippano. Quanto può essere attrattivo, quanto può essere importante? Ma sicuramente è fondamentale, fondamentale perché consente di poter iniziare dei percorsi virtuosi di valorizzazione di queste realtà che ovviamente possono rappresentare in un momento complicato come quello che stiamo vivendo effettivamente una via di uscita ed una alternativa a quello che è una situazione economica che dà veramente grandi preoccupazioni a chi amministra ma soprattutto ai nostri concittadini che vivono difficoltà quotidiane. E allora quello è un aspetto che valorizza, un aspetto che incentiva, un aspetto che credo debba essere portato avanti proprio perché c'è anche la percezione di chi arriva di poter trovare un ambiente bello, sano, accogliente e questo credo che faccia la differenza proprio perché se noi pensiamo di poter coltivare un percorso che veda la cultura, la valorizzazione delle risorse che noi abbiamo, questi sono elementi fondamentali per poter proseguire su questa strada. La cultura porta economia, porta turismo, vi ha portato gente questa serie di iniziative culturali che avete messo in campo l'estate scorsa? Guardi direttore io le faccio un esempio, noi abbiamo lavorato da qualche anno su una manifestazione che ormai ha assunto una dimensione nazionale se non internazionale che sono i fasti verulani e qualche anno fa io mi ricordo che la preoccupazione era quella di poter garantire la manifestazione perché con i fondi che avevamo a disposizione non c'era l'opportunità di ripresentarla. Noi abbiamo messo in campo negli ultimi 4-5 anni delle iniziative per cui oggi quella manifestazione si autofinanzia quindi ha praticamente una capacità di coprire quelli che sono i costi di esercizio ma soprattutto ha un impatto economico sul territorio di una importanza straordinaria. Ci sono attività che in una settimana di eventi praticamente hanno un ritorno di carattere economico che va a coprire la quasi restante parte dell'anno. Quindi è evidente che fare le cose, farle per bene ha come effetto immediato quello di avere un riflesso economico sul territorio. Io credo che la problematica che noi oggi dobbiamo affrontare ovviamente è quella di decidere dove impiegare le risorse perché molte volte noi amministratori riceviamo segnalazioni, riceviamo anche indirizzi da parte dei cittadini su cui si dice si investe nella cultura, è importante, dà economia, bisognerebbe metterci di più. Quello che è il dato che noi invece oggi registriamo è quello di dover far affronte a delle emergenze e oggi l'aspetto sociale che un amministratore ha sul territorio assume per forza di cose una preminenza. La cultura ovviamente ha la necessità di essere alimentata proprio perché può dare quelle risposte di sviluppo economiche di cui dicevamo prima e a Verrui abbiamo esempi concreti con quelle iniziative che noi facciamo in maniera stabile sul nostro territorio. Di fatto avete portato migliaia di persone a Verrui dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico ha funzionato tutto. Beh, è stata un'organizzazione impeccabile, questo ovviamente mi dà l'opportunità di ringraziare il nostro prefetto la dottoressa Emilia Zarilli ma con il questore, con il comandante, con il colonnello Tuccio con gli altri rappresentanti delle forze dell'ordine è stato un lavoro che ha visto impegnati veramente tanti uomini, tante persone, tanta professionalità e di questo a nome dell'intera città di Verrui io ringrazio qui il questore ma estendendo l'invito a tutti perché poi quello che dicevamo prima è di una importanza straordinaria. Eventi importanti, portare gente, portare cultura ma nelle modalità di garantire la massima sicurezza per tutti. In questi tempi il pericolo credo che sia sempre dietro l'angolo perché purtroppo viviamo dei momenti che possono generare situazioni poco piacevoli. Dottor Santarelli, certo insomma durante i fasti Verulani migliaia di persone però immagino insomma lei ci si può fare un sorriso perché lei quest'anno si è gestito il frusinone in Serie A. Per lei sicuramente visto che veniva da Roma gestiva quel tipo di situazioni, insomma gestire il frusinone in Serie A magari sarà stata una passeggiata però è lecito dire per la Polizia di Stato di Frusinone questo è stato un esame di maturità. Sì è stato un esame di maturità per la Polizia di Stato ma un po' per tutto il sistema sicurezza che si è occupato delle partite del frusinone in casa. Quindi non è solo un impegno della Polizia di Stato ma è stato ed è tuttora un impegno di più enti e più soggetti impegnati a garantire la sicurezza di questo importante evento. Mi dice a questo proposito come si costruisce la sicurezza in occasione di una partita di calcio in Serie A perché noi che stiamo dall'altra parte diciamo ma vabbè è andato tutto bene quindi non ci accorgiamo di nulla. Di fatto prima di arrivare a una partita a rischio ad esempio col clima che si è creato con il Palermo mi immagino insomma che sono i tranquilli che lei sta dormendo in vista di questa partita. Quindi c'è tutto un lavoro di preparazione prima. Mi racconta le varie fasi. Sì sì innanzitutto ogni partita è una storia a sé quindi ogni partita va seguita in tutti i suoi aspetti fin dall'inizio. Un evento calcistico da noi si organizza già dieci giorni prima attraverso la predisposizione di un documento sulla valutazione dei rischi legati appunto a tanti fattori che possono essere le rivalità fra le tifoserie, la situazione sportiva generale. Per Frosinone l'aspetto particolare è proprio la collocazione dell'impianto sportivo in una situazione in un ambito centrale con tutta una serie di difficoltà che abbiamo dovuto affrontare fin dall'inizio. C'è ovviamente una grande differenza fra i servizi allo stadio olimpico e i servizi allo stadio Matusa di Frosinone. Ma lo stadio Matusa di Frosinone presenta delle difficoltà per certi aspetti superiori rispetto a Roma. E fra queste difficoltà c'è appunto la collocazione fisica che ci costringe ogni volta a realizzare un sistema di sicurezza particolarmente attento con delle chiusure idonee in modo da realizzare una netta separazione fra le opposte tifoserie. Cioè tanto per fare un esempio all'Olimpico di Roma se c'è una situazione piccola carica e non c'è problema. A Frosinone non si può fare perché ci abbiamo intanto non ci sono gli spazi e poi ci sono rischi concreti per le case che si affacciano proprio di fronte allo stadio. Quindi le misure devono essere ancora più intense. Quindi ogni realtà ha la sua storia e presuppone misure di tutela. Paragoni non se ne possono fare. Anche a Roma cariche, sempre la nostra filosofia è stata, meno cariche possibile ma più prevenzione e più controllo. La stessa cosa soprattutto a Frosinone laddove noi ci troviamo a passare tra i palazzi, sotto i portoni, con tutta una serie di problematiche che ad oggi devo dire grazie alla professionalità e alle abilità delle donne e degli uomini, ripeto, non solo della Polizia di Stato ma di tutte le forze dell'ordine e anche degli altri enti e soggetti impegnati ha fatto sì che tutto si svolgesse in linea di massima abbastanza tranquillamente. Quindi giusto per capire, c'è una partita ad alto rischio. Vi segnalano, perché non è che decidete voi se è ad alto rischio o meno, giustamente voi fate le vostre opportune segnalazioni a livello centrale e vi dicono questa partita ha questo grado di rischio. Quindi riunite, se non sbaglio, ci sono una serie di organismi che riunite nelle settimane precedenti. Come la costruite questa sicurezza? È piuttosto articolato il sistema che nei casi di particolare rilevanza vede anche impegnato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto, che si riunisce davanti ad un tavolo con tutti gli enti e soggetti interessati, quindi non solo le forze dell'Ordine, ma anche il Sindaco, il Presidente della Provincia e tutti gli altri soggetti interessati. Dopodiché, una volta acquisiti gli indirizzi amministrativi, si pone in essere il tavolo tecnico. Il tavolo tecnico è un momento di messa a fattor comune di tutti gli aspetti tecnico-operativi legati ad un evento calcistico. Ad esempio, domani mattina alle 11 faremo il tavolo tecnico per la partita con il Palermo. Ci saranno gli operatori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. In questa realtà collaborano attivamente anche la Polizia Provinciale e la Polizia Locale, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Società GEAF e Cialone, la Società di Calcio, tutta una serie, il 118, tutta una serie di soggetti, tutti insieme, che si impegnano a realizzare, ciascuno secondo le proprie capacità e competenze, un sistema di sicurezza che garantisca che un evento sportivo si realizzi con la massima tranquillità possibile. Di fatto lei, una volta arrivato a Frusinone, si è trovato a dover gestire del personale che, con tutta l'esperienza, la buona volontà che poteva avere, però gestire degli Ultras, gestire una partita di Serie A, non era nelle proprie esperienze. Lei si aspettava un risultato come quello che ha avuto fino ad oggi? Perché tranne qualche scaramuccia, una o due volte, qui si può dire che non sia successo nulla, cioè avete fatto in modo che non succedesse nulla. Sì, abbiamo fatto in modo, tutti insieme, che succedesse poco o niente. Di questo siamo soddisfatti. In ordine pubblico si dice sempre che quando va tutto bene e nessuno ti dice nulla, succede qualcosa, sei nel mirino. No, io confermo che ho trovato una realtà professionale del personale che è impegnato in questo tipo di servizi molto, molto elevata. Ma non dimentichiamo che prima di questo campionato di Serie A c'è stato un campionato di Serie B, altri campionati, Lega Pro. Quindi i colleghi, le donne e gli uomini della Polizia di Stato, i funzionari in particolar modo, hanno un'esperienza legata anche alla particolarità dello stadio e dell'area su cui esso si trova, tale per cui non ho avuto alcuna difficoltà nel coordinare, dal mio punto di vista, i servizi di ordine pubblico allo stadio. Perché effettivamente ho trovato delle persone capaci. Sindaco, la legalità, la sicurezza, dicevamo, si costruiscono dal basso. Uno dei reati più odiosi, sosteneva una volta un procuratore della Repubblica, è un reato che sembra assolutamente nulla, ma è l'abuso edilizio, diceva, perché è sotto gli occhi di tutti. Sembra che nessuno la voglia perseguire, di fatto molte volte ci sono i sindaci che anzi si girano dall'altra parte, perché di fatto comunque poi, che fai, vai a fermare l'elettore. Ora, quanto è complesso per chi amministra il territorio riuscire a creare la cultura della legalità? Oppure si dice, fai quello che ti pare, tanto prima o poi arriva la sanatoria? Beh no, assolutamente no. Oggi credo che non sia questo l'indirizzo da dare ai cittadini e quello che è il problema che sollevava il direttore è un problema reale. Io credo che nel corso degli anni i nostri territori hanno subito danni gravissimi a seguito di quella che è l'indirizzo che purtroppo magari in alcune realtà è stato dato. Nella realtà verolana, con un'estensione territoriale che è enorme, il primo comune in provincia, uno dei più estesi d'Italia, questo fenomeno, diciamo così, ha una valenza limitata a esigenze di carattere familiare e abitativo. Noi veniamo da una cultura che è quella di tramandare, di donare, di ereditare quella che è il terreno, la proprietà da parte dei nonni, da parte dei propri genitori e su questi aspetti si è sviluppata magari negli anni questo tipo di fenomeno. Il nostro non è un territorio che ha un abusivismo di carattere speculativo, è una presenza di situazioni che per esigenze familiari hanno determinato alcune scelte che oggi credo anche quei cittadini che in passato hanno deciso di farla si sono resi conto di aver sbagliato, perché oggi credo che andare a indirizzare la gente dicendo, illudendo che si possa sanare quello che è stato fatto in passato, che si sta facendo adesso, credo che sia una strada sbagliatissima anche alla luce di quello che è il nuovo indirizzo che la Procura della Repubblica di Frosinone sta dando su indirizzo della Procura Generale della Corte di Appello perché procederà nei prossimi giorni ad eseguire delle sentenze penali passate in giudicato di accertamento di questi reati di abusi e quindi si inizierà a demolire. Quindi è ovvio che questo messaggio sarà un messaggio forte, un messaggio che servirà ad evitare questo tipo di situazioni, perché direttore il problema è che chi in passato ha pensato di fare un favore al proprio elettore, l'ha danneggiato gravemente e ha danneggiato soprattutto un territorio e quei cittadini perché poi a quelle persone bisogna dare dei servizi, bisogna garantire la strada, bisogna garantire la pubblica illuminazione, bisogna garantire la rete fognaria e oggi non è possibile andare a creare questo tipo di servizi all'intero territorio proprio perché le risorse sono limitate e queste situazioni hanno determinato gravi danni. Quando cominceranno le demolizioni? A breve, nel nostro comune c'è stato già indicato il procedimento e credo che entro l'anno saranno eseguite le prime demolizioni ma che non riguarderanno solo Veroli ma riguarderanno tutto l'ambito di competenza della Procura della Repubblica. Nel suo territorio più o meno quanti fabbricati dovranno essere demoliti? Noi abbiamo una segnalazione, quindi un'indicazione da parte della Procura che riguarderà nell'immediato tre fabbricati che saranno oggetto di demolizione ma ripeto questo tipo di iniziativa è l'esito di un procedimento penale che è partito negli anni passati. Sono immobili che hanno oltre all'aspetto di divergenza rispetto allo strumento urbanistico anche aspetti di vincoli ambientali, vincoli paesaggistici, quindi è stata data come priorità questa fascia che prevede queste difformità di carattere ambientale e nei prossimi giorni si darà seguito a quello che è un provvedimento della magistratura. Quindi non solo abusive queste case ma anche fatte in posti dove era pericoloso edificare. Per questo la Procura, finito il procedimento, ha detto adesso si butta giù. Pubblicità, il tempo di qualche spot, poi torniamo insieme. Non vi muovete. Seconda parte di A Porta Aperta è sempre in diretta su Teleuniverso, stiamo parlando di sicurezza, abbiamo dato poco spazio ai messaggi, vediamone due, soltanto un paio anche perché abbiamo tanti altri temi da affrontare, poi ci sono concetti ancora molto molto pratici da vedere. Allora vediamo un paio di messaggi per far rinascere la sicurezza e la pace, basterebbe ribellarci agli spettacoli vergognosi che vediamo ogni giorno. Disonestà, corruzione, educatrici e maestre ignoranti e violente, la politica e lo Stato dove stanno? Io parlo da educatrice con anni di esperienza e professionalità. Mi sento veramente umiliata nell'essere da sempre precaria e da mesi anche disoccupata perché le brave educatrici e maestre veramente professionali non vengono assunte. Chi è che permette di lavorare a certi mostri che maltrattano i bimbi? Dove stanno la pace, la sicurezza, la morale e l'onestà. Altro concetto, la legalità in Italia è un'utopia, troppi reati impuniti, troppi processi senza colpevoli, tempi della giustizia troppo lunghi, basta, potrei continuare purtroppo. Dottor Santarelli, al di là degli specifici episodi che ci vengono indicati, di fatto questi messaggi ci portano anche ad allacciarci a un tema che abbiamo affrontato prima, in pratica le nuove tecnologie che sono a disposizione. Abbiamo parlato prima dell'inchiesta pay to drive, quindi intercettazioni, non solo microspie ma anche telecamere e di fatto con le tecnologie che ci sono oggi abbiamo l'impressione di non vedere più i poliziotti in giro, ma siete di meno oppure sfruttate in maniera diversa le tecnologie? Sì, sfruttiamo in maniera opportuna e appropriata le tecnologie. Fra le tecnologie lei nominava anche la cosiddetta videosorveglianza, è un sistema di controllo in collaborazione con gli enti locali che fornisce un valido contributo nell'attività di prevenzione a garanzia della sicurezza dei cittadini. Le forze dell'ordine, Polizia di Stato, sono, ma riescono a modulare i loro servizi in maniera più coordinata, proprio utilizzando e sfruttando i sistemi tecnologici che ci vengono posti a disposizione. Sindaco, qui venivano fatte poi anche delle domande di Polizia, non riesco poi a tenermi lei, è uno dei sindaci che è di area di centro-sinistra ma non ha la tessera del PD, perché non ha la tessera? Non ho la tessera per il fatto che ad oggi nei partiti anche della mia area di riferimento c'è poca chiarezza, c'è molta confusione e soprattutto ci si appassiona in discussioni, in problematiche che hanno poco a che fare con i problemi della gente. Io credo che oggi la credibilità e la soluzione di molte problematiche, tra cui anche quella della sicurezza, lo dicevamo, quello dell'economia, devono passare obbligatoriamente attraverso la politica, attraverso le scelte che fa la politica e io ho l'impressione, ma credo che sia un dato oggettivo, che oggi ci si appassioni per altro e credo che l'esempio di tanti sindaci che quotidianamente stanno sul campo ad affrontare direttamente i cittadini, a risolvere tante problematiche, possono essere di esempio e di aiuto a tante persone che occupano ruoli importanti all'interno di partiti e che hanno poca dimestichezza con queste problematiche. Lei è stato tra i primi ad ammainare i simboli di partito nelle elezioni comunali, è una città anche grossa come Veroli, di fatto poi è cominciato ad accadere lo stesso in tanti altri comuni, oggi c'è il dibattito nei tre centri più grossi, Sora, Cassino e Alatri, ma andiamo col simbolo, andiamo senza simbolo, secondo lei il simbolo di partito oggi ha senso? Secondo me ha senso, ha senso se si recupera quello che è lo spirito e il contenuto che un partito a livello di principi, di ideali dovrebbe recuperare e manifestare, oggi c'è una disaffezione rispetto a quello che è la politica e di conseguenza i simboli di partito perché come dicevo prima la gente li percepisce lontani rispetto a quelle che sono le problematiche e è facile capire quella che è la rabbia di molte persone che assistendo a dibattiti nei talk show che quotidianamente vengono proposti nelle nostre televisioni nazionali che i problemi veri, i problemi di molte persone, i problemi delle scuole, abbiamo visto prima il messaggio relativamente alla gestione delle scuole, all'economia, alle problematiche quotidiane non trovano risposta e allora dovremmo ripartire da lì, io ho avuto modo e lo faccio quotidianamente quello di confrontarmi con esponenti di carattere politico, soprattutto con quelli della mia area di riferimento e in ogni occasione non manco l'opportunità di evidenziare questi aspetti, parliamo e occupiamoci di cose che interessano alla gente, quello che è il simbolo a Chitarlo, a Tizio Caio credo che sia relativo, pensiamo a quello che il candidato sindaco potrebbe realizzare attraverso quel simbolo, perché credo che questo è l'aspetto che dovremmo porre all'attenzione della gente, uno schieramento ha dei valori, ha delle priorità e allora il sindaco che si candida a amministrare città, parliamo di città importanti, dovrebbe farsi carico di quel simbolo ma soprattutto di contenuti e di quei principi, quegli ideali che questi simboli dovrebbero rappresentare. Una volta si parlava del ipotetico partito dei sindaci, poi hanno fatto le amministrazioni provinciali fatte solo da sindaci o amministratori locali, secondo lei questa riforma ha funzionato o no? Ma guardate, io credo che i cittadini debbano sapere una cosa, il simbolo, la politica ha un ruolo fondamentale nella gestione amministrativa di una città, perché? Perché oggi il sindaco con quelle che sono le risorse di un bilancio proprio riesce a fare poco, quello di garantire già i servizi essenziali è un risultato straordinario, la politica ci aiuta perché oggi quello che noi riusciamo a fare lo riusciamo a fare grazie alla regione, grazie a fondi europei, grazie a fondi nazionali e in quegli ambienti c'è la politica, in quegli ambienti ci sono i simboli, in quegli ambienti c'è la necessità di avere dei riferimenti di carattere politico, ecco perché io dico che non dobbiamo cadere nell'errore di sminuire quello che è il ruolo dei partiti, quello che è il ruolo di questi simboli, perché quella è la politica, quella è un percorso storico, un percorso che ha portato l'Italia ad avere tante conquiste, ad avere anche nel dibattito politico, negli scontri, nelle tematiche importanti che negli anni passati hanno coinvolto questi partiti, ad avere dei risultati straordinari, oggi è quello che manca, perché oggi non c'è più una contrapposizione tra questi simboli di partito, tra questi ideali di partito sui contenuti, oggi c'è una politica che ha assunto una dimensione personalistica che danneggia il partito, perché oggi quello che noi siamo abituati a votare è la persona, un leader che si fa carico di tutto e di tutti, ed è un pericolo, è un pericolo per la democrazia, è un pericolo anche per quella che è l'amministrazione, perché il confronto apre la possibilità anche a ripensamenti, apre la possibilità ad avere una valutazione più compiuta di problematiche che noi ci troviamo ad affrontare, ed è questo secondo me il dramma, fa cadere nell'errore che oggi il partito non serve più, che il partito è inutile perché ci si affida alla persona di turno, il partito è importante, io lo dico quotidianamente ai miei amministratori, ai miei cittadini, noi oggi senza avere dei riferimenti partitici non riusciremo a dare le risposte che stiamo cercando di dare sul nostro territorio, ed è questo che la gente deve capire, non cadere nell'errore di sminuire, di andare a sottovalutare questo aspetto, tante problematiche oggi si risolveranno con questo tipo di soluzione, dare credibilità e ridare forza a quelli che sono partiti che hanno rappresentato e che rappresentano una risorsa straordinaria per il nostro territorio. Dottore Santarelli, rispetto al passato, garantire la regolarità e la tranquillità del dibattito politico, del confronto politico, oggi insomma non è così difficile come i tempi nei quali la Polizia doveva andare ad assistere, molte volte segretamente, ai comizi o agli incontri, che quegli anni sono passati. Certo è che la Polizia si è sviluppata, si è specializzata, in questi anni abbiamo avuto tante diverse specialità di Polizia, abbiamo detto, prima parlavamo ad esempio della ferroviaria, ma c'è la Polizia Postale e delle telecomunicazioni, in una questura come quella di Frosinone ci sono tante specialità, che cosa troviamo nella questura di Frosinone come specialità di Polizia di Stato? Sì, dunque la Polizia di Stato nella provincia di Frosinone è rappresentata oltre che dalla questura e dai commissariati, dalle cosiddette specialità Polizia Stradale, Polizia Postale e delle telecomunicazioni e Polizia Ferroviaria. Si tratta di uffici, di operatori che hanno una loro dipendenza verso i compartimenti della Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia Postale che hanno sede a Roma. Ciascuno opera secondo compiti prestabiliti, previsti dall'ordinamento giuridico, con delle specializzazioni molto molto importanti, pensiamo a quella della Polizia Stradale che garantisce la sicurezza della viabilità autostradale e stradale in tutta la provincia, la Polizia Ferroviaria che garantisce la sicurezza del trasporto ferroviario e la Polizia Postale delle telecomunicazioni che è, come tutti sappiamo, molto impegnata nella lotta ai reati informatici. Di fatto siete stati i primi ad aprire al personale femminile, questo vi ha consentito di sviluppare una particolare sensibilità su determinati reati, cioè i reati di genere e i reati soprattutto a carico delle donne. Non ce ne vogliono i carabinieri, però è più facile per una donna andare a parlare con una donna poliziotto che andare in una caserma dei carabinieri dove idealmente c'è il marescial. Allora anche questa specializzazione, non tanto specialità, ma anche questa specializzazione particolare è in campo a Frosinone perché siete particolarmente attivi nella tutela delle donne. Sì, la Polizia di Stato è molto impegnata, ma in tutto il territorio nazionale, nelle attività a tutela delle donne o comunque dei soggetti, dei minori anche. Esistono delle vere e proprie sezioni specializzate nell'ambito della squadra mobile che si occupano di questo tipo di problematiche. C'è personale specializzato che ha fatto dei corsi specifici, c'è anche personale psicologo che partecipa alle cosiddette audizioni protette proprio per garantire alle donne che hanno subito violenza, attiviolenti, la necessaria tranquillità e l'ambiente giusto per poter formulare i loro racconti. È un settore in cui siamo molto impegnati perché il fenomeno purtroppo è più diffuso di quanto pensiamo. I risultati sono... In relazione due cose che lei ha detto. Lei prima ci ha detto, ma guardate, noi abbiamo degli uffici dove non è che devi venire a fare la denuncia e devi accusare qualcuno. Se vedi qualcosa che non funziona, che ti insospettisce, vieni a dircelo. Quella non è una denuncia, noi comunque approfondiamo e verifichiamo lo stesso. Ci parla adesso del caso di questa specializzazione nella tutela delle donne. Di fatto immaginiamo qualche persona che ci sta sentendo in questo momento a casa e accosti queste due cose. Non vuole denunciare il marito, ma comunque vuole raccontare che sta affrontando delle difficoltà e vuole sapere ma cosa succede se? È possibile parlare con la polizia e dire ma cosa succede se faccio questo per tutelarmi da mio marito che magari alza le mani su di me? È possibile farlo? Esatto, sì, è possibile. Noi lo diciamo sempre, anche quando facciamo gli incontri con gli studenti, sempre per promuovere il messaggio di legalità o quando abbiamo fatto delle iniziative pubbliche al teatro Nestor per combattere ogni forma di discriminazione e di violenza. Noi diciamo alle donne che subiscono violenze o che hanno situazioni complesse di segnalarle, di avere il coraggio di segnalare alle forze dell'ordine la loro difficoltà. Per la Polizia di Stato, confermo, esistono sezioni specializzate e persone altamente professionalmente preparate. Noi abbiamo la dottoressa Pagliarosi che è una psicologo della Polizia di Stato che in questo ambito fornisce la propria collaborazione, ma nell'ambito della squadra mobile ci sono ispettori, sovrintendenti, assistenti, uomini e donne che hanno la capacità tecnica e professionale di ascolto e di consiglio, quindi possono consigliare. Ma io dico anche che noi come Polizia di Stato abbiamo firmato diversi protocolli di intesa con varie associazioni private, le quali a loro volta possono essere interessate da parte delle donne in difficoltà e con le quali noi stiamo collaborando. Io voglio segnalare che nella provincia di Frosinone esiste una vera e propria rete antiviolenza che ha messo insieme non solo Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza, ma anche la magistratura, le asle, la provincia, l'università, il comune, tutti gli enti che possono operare in questo importantissimo settore. Quindi le raccomandazioni che noi diamo nei nostri incontri pubblici sono proprio queste, segnalate situazioni di difficoltà perché troverete chi vi consiglia e accoglie in un ambito discreto. Di fatto poi si è sviluppata in questione la tematica pure sul bullismo. Lei prima citava l'iniziativa al Nestor, ogni anno la polizia incontra i ragazzi perché lei ci diceva che la legalità si costruisce dal basso, cominciando dalle generazioni più giovani. Di fatto quando ci sono dei ragazzi che subiscono degli atti di questo genere, come devono agire? Voi come consigliate di agire? Sì, noi consigliamo ai ragazzi di segnalare anche in questo caso situazioni di difficoltà, di non tenersele dentro perché spesso e psicologicamente ci è stato insegnato una situazione psicologica pesante dovuta ad atti di bullismo può portare a situazioni piuttosto gravi. Quindi noi in occasione degli incontri che abbiamo fatto con i ragazzi, non solo a Frosinone e al Nestor, ma siamo stati anche lo scorso anno a Fiuggi, al Teatro Comunale, a Cassino, al Teatro Manzoni, siamo andati all'auditorio Medisora. In tutte queste circostanze, anche in collaborazione con la Polizia Postale che ha evidenziato il triste fenomeno del cyberbullismo, in tutte queste occasioni di educazione e legalità abbiamo invitato i ragazzi a tenere comportamenti fondati sul rispetto fra di loro e comunque a segnalare ai professori, alle forze dell'ordine, situazioni di bullismo. Lei prima ha detto una cosa molto importante, l'errore più grave è quello di girarsi dall'altra parte, vedo qualche cosa di strano, c'è una macchina sospetta, qualche cosa che non mi convince, posso telefonare? Molte volte la gente dice ma poi disturbo, poi se non è niente che figura ci faccio? Di fatto l'operatore che ha la sala operativa del 113 invece è lì apposta per quello, voi costruite così la sicurezza? Esatto, quindi confermo ancora una volta, noi spesso chiediamo la collaborazione dei cittadini che non devono aver timore di chiamare il 112, il 113 o telefonare ai numeri pubblici delle forze dell'ordine per segnalare situazioni sospette o che destano preoccupazione. Tante volte ci è capitato di arrestare dei ladri proprio perché il cittadino, l'abitante del piano superiore ci ha segnalato rumori molesti, strani rumori al piano di sotto. Le segnalazioni sono importanti, la collaborazione dei cittadini per noi è fondamentale, l'ho detto all'inizio e lo ripeto sempre, la sicurezza si fa tutti insieme. Di fatto quindi si può telefonare, c'è del personale che eventualmente facendo il numero 113 se c'è una donna che è in difficoltà, bisogna anche solo di un consiglio, poi viene dirottata verso il funzionario giusto, verso la persona giusta, tanto quanto se c'è una persona che dice sento dei rumori strani al piano di sotto, non so cosa sta succedendo, anche lì si viene indirizzati verso l'operatore più adatto. Quindi chi è lì alla sala operativa è apposta per filtrare e recepire queste cose. Sì, confermo, è personale, preparato, sa come muoversi in queste circostanze, sa che consigli dare, sa a chi dirottare la telefonata nel caso in cui si tratti di questioni più complesse. Sindaco, allora abbiamo detto la pace si costruisce anche dal basso, così come la sicurezza si costruisce dal basso. Questo monumento inaugurato oggi è comunque l'occasione per, farei di Veruli la città simbolo della cultura e della pace. Di fatto è stata una grandissima occasione turistica, perché avete fatto vedere ai rappresentanti dei quattro angoli del pianeta che cosa c'è in provincia di Frosinone. Di fatto adesso ci dovrebbe dire, e per il futuro che cosa fate? Perché qui tra poco si va verso l'estate e bisogna cominciare a pensare, ma i fasti verulani li fate o non li rifate? Gli incontri con gli autori li fate o li rifate? Cioè cercate anche quest'anno di portare gente a Veruli e, ma è proprio così impossibile pensare di realizzare una rete con le altre città vicine per fare in modo che, ad esempio, chi viene a Veruli e paga un biglietto possa andare con un euro in più a vedere l'iniziativa che è nel comune vicino? Beh sì, quella di oggi è stata una grande vetrina per la nostra città, ma soprattutto per l'intera sociaria. Credo che deve essere motivo di orgoglio da parte di tutti aver ricevuto apprezzamenti importanti da parte delle tante autorità, dei tanti ambasciatori oggi presenti. E sa qual è il dato che credo debba essere registrato? È l'interesse che hanno per il nostro territorio che è altissimo. Noi abbiamo già contatti per tante iniziative che porteremo avanti con questi ambasciatori che sono innamorati del nostro territorio. Sono innamorati dei nostri prodotti tipici e hanno la volontà di conoscerci meglio e di intraprendere scambi e opportunità di crescita e di sviluppo. Questo era l'obiettivo principale di questa iniziativa. Questa iniziativa si è rilevata molto utile e vi posso preannunciare che già con alcuni ambasciatori abbiamo programmato una scadenza annuale di eventi che verranno realizzati a Veroli come tematica principale appunto la pace. Ma sarà l'opportunità di mettere insieme anche realtà imprenditoriali, realtà economiche, realtà che possono interagire con noi e dare una situazione che può essere utile sotto l'aspetto economico. Noi Veroli credo che ormai in questi anni si è contraddistinta per quella che è un numero di spettacoli di programmazione elevata soprattutto sotto l'aspetto qualitativo. Anche quest'anno a giorni presenteremo il programma estivo degli eventi che inizierà a maggio con una mostra internazionale di 12 artisti che verranno a disporre le loro opere a Veroli e proseguirà nel corso dei mesi con varie tematiche. Il mese di giugno avremo ogni domenica la città dei ragazzi. Pensiamo anche ai nostri ragazzi con intrattenimenti, giochi, laboratori creativi e poi sono immancabili quelli che ormai gli appuntamenti tradizionali, Ernica Etnica, i Fassi Verulani e torneremo anche quest'anno dopo il successo dell'anno scorso con quell'iniziativa Incontriamoci a Veroli che ha dato ottimi risultati e che va poi a testimoniare, direttore, noi abbiamo avuto modo di confrontarci su questo tema, che in Ciociaria, a Veroli in particolare, c'è voglia di cultura, c'è tanta gente che ha voglia di conoscere, di scoprire, di apprezzare le cose belle e di passare una bella serata all'insegna di argomenti che possono suscitare interesse e attenzioni particolari, quindi noi anche quest'anno riproporremo queste manifestazioni senza trascurare quello che è un aspetto importante, è uno sforzo straordinario che noi facciamo e la cosa che voglio evidenziare è che molti cittadini ci dicono sì, ma voi pensate a fare questi eventi trascurando magari chi oggi ha bisogno, chi ha oggi difficoltà, non è questo secondo me il punto di vista per inquadrare il problema, ma quello che noi facciamo è un investimento sul territorio, sui nostri cittadini, sui nostri ragazzi perché crediamo che quella possa essere la strada per dare sviluppo al nostro territorio, ma anche per creare delle situazioni che siano favorevoli ai nostri ragazzi e alle nuove generazioni. Dottor Santarelli, noi nella premissa abbiamo detto, insomma, questi anni trascorsi a Roma, ha vigilato e ha costruito la sicurezza dentro Roma Capitale, le iniziative, nelle manifestazioni più importanti di ogni genere, lo ha fatto anche a Frosinone, abbiamo parlato di indagini, abbiamo parlato delle partite di calcio, se abbiamo incuriosito qualcuno, ma come si diventa questore? Beh, diciamo che è un percorso molto impegnativo, la cosa, io ho 31 anni di servizio, quindi ho acquisito la qualifica di dirigente superiore tre anni fa, ma prima di arrivare a questo ho lavorato a Trieste, a Milano, ad Arezzo, a Roma. 31 anni, 1985, e cosa fa nell'85? Scuola superiore di polizia? Il 2 maggio dell'85, dopo aver acquisito la laurea e ho svolto il servizio militare come ufficiale di complemento, sono entrato alla scuola superiore di polizia come vicecommissario in prova e quindi il 2 maggio dell'85 inizia questo lungo percorso che mi ha portato a girare varie città d'Italia, ad avere esperienze in molti settori, dalla scuola allievi agenti, alla questura di Milano, alla direzione investigativa antimafia e costruire piano piano una professionalità che oggi mi ritrovo per poter assolvere a questo importante e delicato incarico di questore. A un giovane consiglierebbe di fare il poliziotto o di tentare il concorso per la scuola superiore di polizia? Sì, confermo. In verità quando ero giovane studente, neolaureato, mi ero riproposto degli obiettivi. In verità al primo posto c'era quello di magistrato, ma al posto successivo quello di commissario di polizia. Ho avuto la fortuna di vincere a primo tentativo il concorso da vicecommissario e poi mi sono appassionato a questo tipo di attività e di vita e quindi ho proseguito per questa carriera. Sì, io lo consiglio sempre perché comunque è un concorso peraltro non facile perché due prove scritte di diritto penale, procedura penale, costituzione amministrativa, dieci materie orali. È un concorso difficile, ma è una bella carriera, è un bell'impegno perché oltre a mettere in pratica tutto ciò che si è studiato, ti pone a contatto diretto con la gente e quindi ti insegna anche a vivere. Grazie ai nostri ospiti, grazie per quello che ci avete trasmesso, grazie a voi a casa per averci seguito. Porte aperte, questo numero lo chiude qui, vi lasciamo in compagnia di Fabio Cortina, spazio libero, discussione verso le elezioni comunali. Fabio Cortina questa sera in compagnia di Alessio Carlino, di Meritocrazia Italiana. Porte aperte, torna tra una settimana, stessa ora, stessa rete. Arrivederci. Grazie a tutti.